Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. La Corte dei Conti ha sospeso il giudizio di parificazione del rendiconto della regione siciliana per il 2021. In questo modo il tutto è stato rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale che deve ancora pronunciarsi sui tempi della spalmatura del disavanzo del 2018. Il forte vento dimestrale che sta sediando la Sicilia ha creato diversi problemi a Palermo dove le forti raffiche hanno sradicato alberi e abbattuto pali dell'illuminazione fortunatamente non si registrano feriti. Nella giornata di ieri alcuni detenuti del carcere di Caltanissetta si sono impadroniti delle chiavi del piano e hanno distrutto tutto. L'episodio è stato denunciato dal sindacato Sinappe che ha chiesto azioni immediate per affrontare la carenza di personale. La polizia di Catania era stato un uomo di 55 anni che negli scorsi mesi aveva messo a segno una rapina all'interno di una sala scommessa. Le indagini hanno portato la sua identificazione ma non ancora quella del complice. E chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani sole e nubi sparse si alterneranno in tutta la Sicilia a eccezione di Messina dove potrebbero verificarsi ancora dei rovesci. Temperature in calo nei valori massimi, raffiche di vento che dovrebbero invece attenuarsi. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.